Un po' più da 50, metà e non metto il paio? Tieni l'altro, cattivo, però va a sentire, eh? Sembra addormentato, ok? Calcio a basso e calcio a alto. Reattivo, sai cosa vuol dire reattivo? No, quello non è reattivo, quello è blando, reattivo, il contrario di blando. La massima velocità esecutiva. Non è rilassato. E' contale, non è rischietto. Quello è... Quello è... Quello è... Però... Non si può. Lui stai a grande media, pum. 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 e circolare allungalo, devi arrivare riprovalo subito, allungalo spingi col frontale spingi col frontale, reattivo spingi frontale mezzo rotterale ha spinto visto? vista che è entrato, dai destro alto doppiato basso destro alto doppiato per frontale senza appoggiare senza appoggiare così troppo lento però fallo uguale col sinistro dai, vei affrontare sinistro cade avanti affrontare sinistro a schiena riprova l'ora così falla entrare falla arrivare circolare doppiato con frontale con sinistro circolare frontale forza ah devi farlo alto è più veloce se no te lo acchiaffa ti aspetti sta partendo lui ok due volte più veloce poi le rallento troppo lento più dritto bene che ne puoi ok ah ah ok ah 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 vuoi fare kick? vuoi fare un po' di scambio? come loro vai chiedi io chiedi vuoi fare samsen? manuel samsen cercate di fare la figlia dai bellissimo dai spingilo al contrario potrebbe arrivare qui in fondo quel calcio non l'hai voluto girare affondalo senza usare il pulso così deve entrare deve entrare dai posso fare anche senza banche? senza banche no no dopo tira sulle mani tira sulle mani ogni tanto fai una cosa diversa stile maximo stile maximo italiano allora attenti attenti ottene sulle mani dai spingi con quel frontale dai spingi 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 se così boom ma c'hai lente? devi fare spot dall'inizio così deciso piacere puntale dai c'hai i partiti eh ben cazzo dai metti velocità vai sotto e sotto interno forse 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 va bene e poi subito a frontale fai due o tre cose insieme subito ma a me la prevede poi una non è un bar vabbè hai visto? sembra che mi capisce l'italiano un po' storico dove sei? anche il salto sei di nuoro però aspetta guarda ho l'online devi usare la velocità te lo sta dicendo più di un po' dall'inizio sii veloce troppo lento troppo lento non stai tirando veloce dai tira veloce forse tira veloce doppia vai perché non hai girato l'anca? dai troppo lento troppo lento troppo lento troppo lento non serve a niente non è un lavoro per il frontale parlo parlo bene a subito finita circolare e tira il frontale destra dai 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 frontale sinistra vai veloce veloce come puoi la gamba guarda come abbassi le mani lui parte ogni volta se non metti forse ti acchiappa la gamba devi essere reattivo reattivo creativo scusa come lo fai Massimo? perché non lo fai? devi fare che ti risponda forte e te ne frega circolare alto discendente destra dai più alto però passare sotto fai il giro dai alla senchiai dai ripetelo devi arrivarci non è una cosa è una cosa è una cosa che non è un'altra è un'altra così rispondi rispondi forza ora come te lo tira alto passa sotto ce la fai veloce circolare destra e frontale ma si al viso, più alto, al mazzo puoi fare circolare laterale però fai sì, così, più forte se lo fai forte, non te la chiappa subito con sinistra, dai bravo, fai il passo a destra e a bande sinistra, velocissimo non mi interessa se entra lui tanto non siamo in gara una volta sola, fallo, non pensare tira su le mani, non pensare fallo tira su le mani, tira su le mani tira su le mani devi farlo alto devi farlo alto dai, volontaria spinta deve essere la tua arma mezzo laterale, dai così, deciso qual è il tuo jab con le gambe, dai tieni sulla mano devi fare frontale non entra di più finta frontale a sinistra e fallo a destra dai finta, dai, non abbassare le mani che parte lui bravo, così finta frontale a destra invece fai il passo a bando però fallo adesso l'ho sentito? dai, un passo indietro passo a bando dai, dai 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 non pensare fallo e basta non ci sono neanche i pugni qua perché non hai fatto il passo? perché lo fai lento? vuoi che ti fai tanto veloce come il funghi il passo vuoi venire qua il passo destra vuoi venire qua laterale sinistro laterale sinistro via grazie è brutto non sei deciso è brutto da fastidio perché lui ti retira più dei piedi ciao eh perché questo fa piacere vedere i colpi si sente il tocco tu in più non si sentono hai capito? dai svegliati Massimo ciao voglio sentire il rumore dei colpi hai il palatiglia no si sta riscaldando no no è troppo lento rispondi ma rispondi non mi interessa vai avanti Massimo vai avanti vai avanti vai avanti vai avanti non fare il passo in giro vai avanti vai avanti e circolare dall'alto in basso da sopra la testa dai destro ora dall'alto in basso devi salire sopra la testa e poi farlo scendere devi far salire lontano da lui sopra la testa forza devi spingere prima di fare quel calcio devi spingerlo quindi spingilo col frontale e fai quel calcio dai mezzo laterale così entra dai sto aspettando quel calcio Massimo devi spingelo a fare quel calcio più a dentro vedi come sta avanzando vai avanti vai avanti vai avanti devi salire di più richiama richiama non rimanere con la gamba lì richiama tieni sul destro tieni sulle mani non andare indietro non andare indietro vattene di lato non andare indietro forza slide e circola sinistra scivola scivola sinistra col sinistro di più di più scivola di più fai il piede scacciapiede vattene di lato forza fai il passo sinistro piede scacciapiede bravo così uguale alto subito provalo dimmi una cosa ai dolori perché non lo tocchi perché non lo tocchi veloce perché non lo sei toccando vedi quando può essere realtà l'altro non è realtà la realtà è quando sei fai la velocità normale la velocità del combattimento richiama per doppiare tiralo e richiama troppo lento tira quel destro di nuovo lo voglio rivedere e richiamalo subito uno e subito frontale sinistro o destro subito mai una singola tecnica forza fammelo vedere uno due no devi essere più veloce destro appoggi sinistro dai veloce tira su le mani rimanevi lì non te ne andavo rimanevi lì e rispondevi rispondi devi andare avanti non indietro sto aspettando circolare destro e frontale sinistro uno e due più veloce più veloce ripeti finché non ci riesci ripeti ripeti devi richiamare non incastrarti ripeti circolare destro e frontale sinistro uno e due così finché non ti riesci meglio ancora più veloce dai ancora più veloce sì così forza un passo destro e un bando sinistro rispondi continuo un passo destro e un bando sinistro velocissimo velocissimo provo dall'altra parte qual'è il problema? provo dall'altra parte è il troppo lento questo fai la finta che ha fatto lui il gioco di gambe fai il gioco di gambe fai il gioco di gambe fai uno due tre quattro passo sinistro e due e destra blocca spingi quel frontale spingi di nuovo rispondi devi mettiti in quella testa devo essere l'ultimo a portare la tecnica mettiti questa cosa in testa devo essere l'ultimo a portare la tecnica spingi passo e due forza di nuovo spingi sveglia 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 devi spingere spingerlo spingilo dai dai cosa aspetti non fate schiappare fai le finge non fate schiappare circolare al viso e frontale destro tutto senza appoggiare alla massima velocità ok non problema non problema non problema circolare destro al viso circolare destro il viso e il laterale destro senza appoggiare se lo tiri forte magari non ti acchiappa è secco pam pam secco subito puoi frontale bravo fai la finita di destra e di sinistra fai qualche middle troppo lento massimo troppo lento per il middle non ha senso anche questo è forse poco poco più veloce del destro ma è sempre troppo lento dai fai un middle destro saltato via 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 faglio prova le cose in palestra prova tutto fai un passo veloce destro giri e duit prendi la finta con il braccio quello che vuoi eh bravo dai dai sei troppo vicino da fare quello ti ho detto fai un po' indietro fai la finta fai il passo e il duit vai veloce no la finta con il sinistro poi il passo deve essere velocissimo deve essere uno scatto passo e il duit subito fai un circolare non fallo quando meno se lo aspetta fai un frontale sinistro non fare quella non fare il passo indietro quando blocchi un calcio suo allora sei troppo vicino ok devi stare a distanza spingilo con un frontale più veloce non deve che a parti più veloce non deve che a parti più veloce non deve che a parti più veloce più forte con la spinta parti prima che parta lui quando fa le finte così parti capo il cazzo di mille non serve un cazzo te lo acchiappa fisso è troppo lento adesso lo fai uguale fai la finta del circolare fai il passo indietro girando il piede e duit destro dai subito dai subito prima che parta lui no ho detto col sinistro dai col sinistro finta circolare fai il passo sinistro e duit destro non hai fatto il passo sinistro non l'hai fatto ripeti subito ripeti subito ripeti subito ripeti subito ripeti subito finta circolare sinistro fai uno scatto fai una finta solleva fai il passo sinistro fai la finta fai la finta solleva fai la finta del calcio fai la finta del calcio ti muovi fai la finta del calcio poi ti giri di schiena poi il piede largo e fai il giro subito rapido via questo devi fare visto che è entrato devi essere deciso veloce non lo devi fare sempre una volta nel round basta ma devi farlo bene forza ancora ok